Il Comune di Santa Marina firma la programmazione per l'annualità 2013-2015 mettendo in salvo il milione di euro di finanziamento richiesto alla Regione per i servizi sociali da eviare nei 17 comuni dell'ambito S9 che si estende da Sapri a Camerota. Dopo il vertice della scorsa settimana con l'assessore regionale russo è stata trovata l'intesa che porterà alla sospensione della procedura commissariale. Procedura avviata dal governo campano proprio perché la richiesta di fondi avanzati in Regione dal coordinamento era stata sottoscritta da tutti i sindaci dei comuni del piano ad eccezione del primo cittadino santamarinese Dionigi Fortunato. Quest'ultimo ha deciso per il dietrofront perché nel vertice a Napoli è stata accolta la sua proposta di modifica alla convenzione. Giovedì prossimo a Sapri, comune capofila del piano, si riunirà il coordinamento per l'approvazione delle correzioni richieste da Fortunato. La stessa cosa dovrà fare il Consiglio Comunale di Santa Marina. Dopodiché la Regione procederà a bloccare la procedura di commissariamento e allo stanziamento della prima trancia di fondi richiesti dal piano per attuare progetti che mirano a tutelare le fasce deboli. Previste anche iniziative per le vittime del gioco d'azzardo, della droga e delle donne vittime di violenze. Spero, afferma il Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Fortunato, che questo sia solo l'inizio di un nuovo cammino unitario a favore, prima di ogni cosa, dei bisogni dei nostri cittadini.